Conte rimane in Italia dopo la Control Milan, svelato il motivo. Antonio Conte non è tornato in Inghilterra dopo il match di martedì giocato Control Milan a San Siro. Il tecnico del Tottenham è rimasto in Italia dopo la sconfitta per un motivo legato al recente intervento chirurgico a cui si è sottoposto in seguito di una diagnosi di coleciste. Conte ha bisogno di riposo nella giornata di ieri, Conte si è sottoposto a una visita di controllo in Italia e ha deciso. Di comune accordo con il Tottenham, di osservare un periodo di riposo in famiglia per riprendersi al meglio dall'operazione. Gli Spurs l'hanno anche annunciato in un comunicato dove hanno rimarcato, la salute è l'aspetto più importante e tutti al club li augurano ogni bene. A guidare la squadra in questo periodo sarà Cristian Stillini.